Porta Figlinesi al lavoro per il Palio di San Rocco, il tempo ormai scarseggia e così i contradaioli sono impegnati giorno e notte nella realizzazione dei carri per la sfilata. In ordine ascoltiamo Porta Fiorentina, Porta Aretina, Porta San Francesco e Porta Senese. La sfilata rappresenta tutto l'inverno di cercare una storia e poi dietro, dietro di segno, facciamo il carro alle mie spalle da pensare che tutto ciò è un polistirolo in legno. Oltre che alla storia a lavorare proprio manualmente sul carro abbiamo iniziato all'inizio dell'estate con i contradaioli che la sera veniamo qui a passare le nostre serate che ci danno mano a fare la struttura. Noi abbiamo il grandissimo Luzzi Paolo che fa il progetto e è quello grazie a lui che tutti gli anni riusciamo ad andare in piazza con i carri perché lui veramente ci dà anima e corpo per fare questi carri qui. Si può dire che siamo quasi pronti, ci dà fare qualche ritocchino alle colonne sempre dietro al suggerimento di Paolo. Anche ora mi ha detto guarda fai questi colori qui ben precisi. Noi si passa le ferie sul carro quindi se qualcuno vuole venire a darci una mano volentieri. Solamente passione ormai è rimasta per il paese di Figline, credo che i figlinesi saranno non tenti perché ci fanno noi. Chi vernicia, chi fa il carro, chi viene a fare compagnia, chi portava a bere, chi portava a mangiare. Sono impegnati a lavorare in questo carro che rappresenterà appunto Porta Sanese alla festa del perdono 2016. Sembrava un ritardo ma non lo siamo, non vi preoccupate, arriveremo in tempo e faremo un bellissimo carro. Per ogni contrada è veramente un bel sacrificio, già da mesi prima si deve scegliere le scene, fare la scenografia, il disegno del carro. È veramente un discorso molto impegnativo, è soltanto un fatto di cuore.